Un bruttissimo fallo, tutti i giocatori della Reggina intorno all'arbitro si è fatto male, sicuramente Ritteri a terra adesso bisognerà rivedere precisamente quello che è successo perché probabilmente Ritteri ha subito un fallo di reazione adesso si scatena una mezza rissa, purtroppo non è una novità nel campo di Reggio Calabria tutti intorno all'arbitro che Mariani di Aprilia, avrà bisogno Mariani anche di vicinanza e Manzini che sono i suoi collaboratori per vedere quello che è successo, Dionigi allarga le braccia sconcertato c'è stato un contatto che ha visto il protagonista Ritteri che è finito a terra colorante braccio credo, ci sono anche i due assistenti medici della Ternana che vanno a vedere le sue condizioni c'è Ragusa vicino a lui, cosa ha fatto? Dice Dionigi, qui siamo tutti matti abbiamo visto anche un'espulsione che dovremmo vedere però per chi è adesso lo rivediamo, eccolo qui è Eli che è entrato in questo modo mamma mia, su Litteri grazie grazie Grazie.